Ciao a tutti ragazzi sono sempre io il vostro amico FN95N e vi parlo Alcaline Tecnica Game Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi vi porto un BCBM fatto con Vito Simone Non è un utente di Youtube ma mi ha contattato personalmente lui sulla mia email E mi ha detto che aveva un po' di carte dei Pokémon che voleva vendere E non è proprio un po' ragazzi ma ne ha veramente tantissime Da giapponesi, italiani, inglesi, dal set base fino anche alle Neo Quindi ne ha veramente tantissime ragazzi E io allora mi ha fatto vedere la sua lista e io ho deciso di comprarne un po' Ho comprato 5 carte vecchie, me le ha messe veramente a un prezzo stracciato di 15€ Veramente pochissimo ragazzi E niente adesso io ve le mostrerò La sua email sarà nella descrizione di questo video E anche la lista delle sue carte che vende e scambia E niente contattatelo Credo che vi risponderà subito perché a me mi risponde subito Anche invio le mail dopo un'oretta già mi ha risposto E quindi contattatelo e iniziamo subito Ci invia questo Dark Alakazam Olo Mint giapponese Veramente carta stupenda Un Dark Magneton Nearmint in italiano Veramente carta stupenda Hitmonchan set base in italiano Nearmint Un Dragonite mintissimo Manco un graffio, manco una piega Niente 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 In inglese Di Fossil E infine un Dark Alakazam Olo Mint Nearmint anche questo Di Rocket In italiano Veramente carta stupenda Da notare il membro del team Rocket dietro Questa telecamera non mette a fuoco Vabbè ormai lo sappiamo Dark Alakazam Olo Mint E niente contattatelo se vi servono questo genere di carte Vi chiedo di avervi detto tutto Per questo video è tutto 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 Come dico sempre Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Passate sulla pagina Facebook Fan page E niente ragazzi Iscrivetevi alla Raffle per i 1500 iscritti Tutti i link saranno nella descrizione Qua sotto E no là sopra Quindi Bella